Stamattina abbiamo organizzato questo ennesimo presidio davanti alla fabbrica Fonderia Pisano perché è un'ennesima occasione per ribadire la necessità che si prenda una soluzione definitiva di delocalizzare questa fabbrica. Noi non siamo contrari a nessuna, non ce l'abbiamo con nessuno. I nostri interlocutori e i nostri responsabili di questa vicenda se si fa una delocalizzazione non può essere più garantita che restano silenti di fronte alle difficoltà dei cittadini. Abbiamo bisogno di riportare al centro questa vicenda dell'inquinamento atmosferico nella Valle dell'Irno in particolare nella zona che va da Fratte a Coperchia a Baronissi perché c'è la necessità di ridare un futuro e di dare la certezza di respirare un'aria pulita, cosa che oggi non avviene. Quindi per questo il presidio di oggi che ci sarà anche Rai3 che vorrà fare un servizio ha l'obiettivo di sensibilizzare le istituzioni a fare il loro dovere. Abbiamo chiesto con una lettera ufficiale come comitato all'ARPAC diffidandoli di ripristinare la centralina Fratte perché quella centralina da anni non rileva più il PM10, il PM2.5 e il benzene, tre elementi cargerogeni per la salute umana che sono accertati, che sono pericolosi per quanto riguarda cargerogeni e contribuiscono a provocare tumori a salute umana. Per questo chiediamo che l'ARPAC, che l'ASL, un altro organismo che non ha fatto il suo dovere, intervenga insieme alla regione, al comune, alla provincia e trovi una soluzione definitiva. Non tocca a noi dire come risolvere questa vicenda ma sicuramente noi vogliamo garantire il diritto alla salute senza il quale diritto fondamentale e costituzionale non c'è futuro, non ci sono gli altri diritti. Garantiamo il diritto alla salute e diamo anche solidarietà agli operai e al lavoro perché riteniamo che il lavoro sia un diritto altrettanto costituzionale e fondamentale ma che va garantito non a danno della salute. I due diritti vanno insieme, vanno su una bilancia in maniera paritaria, non bisogna diciamo dimenticarci dell'altro, negli anni ha avvito procedimenti penali. L'ultimo è nel 2011, l'ennesimo sequestro che c'è stato dove per la prima volta e di pochi giorni i capi di imputazione che sono stati dati all'ingegnere Pisano, la procura, il PM Olivieri ha stabilito che i metalli pesanti che escono dalla fonderia, piombo e caddimi, sono metalli cargerogeli e che possono provocare patologie sugli esseri umani. Quindi diciamo per la prima volta, anche se non è una sentenza passata o ingiudicata, ma un capo di imputazione, per la prima volta la magistratura, la procura della Repubblica mette insieme e parla di quelle difficoltà e di quelle cose che noi per anni come cittadini stiamo denunciando. Quindi diciamo che qualcosa si muove, però noi ci fermeremo solo quando sarà delocalizzata la fabbrica e sarà fatta la bonifica del territorio. Io volevo parlare dell'inguinamento ambientale della Valle dell'Irno. La Valle dell'Irno è offesa da tre grosse criticità. L'inguinamento ambientale è dovuto alle industrie. L'inguinamento ambientale è dovuto al traffico veicolare e l'altro, grossa criticità, è dovuta ai containers che da circa 35 anni si trovano tra l'abitato di Fratte e l'abitato di Matierno. Le analizzo una per una molto brevemente. Per quanto riguarda l'inguinamento industriale dovuto nella Valle dell'Irno, la grossa criticità, la punta di diamante di questa è la fonderia Pisano. Tutti quanti conoscono ciò che rilascia la fonderia Pisano. Non mi voglio soffermare più di tanto, ma sappiamo le polveri sottili, sappiamo, basta vedere anche le persone ignoranti, le persone che non parlano di queste cose a livello tecnico, ma basta guardarsi intorno e vedere che tutti i palazzi che si rivolgono verso nord, verso la fonderia Pisano, partendo dalla fonderia Pisano, arrivando fino a Fratte, sono tutti, hanno un colore scuro. Questo vuol dire che le polveri, con l'umidità dell'aria, si vanno a depositare sulle facciate rivolte verso la fonderia Pisano. Inoltre basta chiedere a tutte le donne, a tutti gli abitanti della zona, la mattina, che cosa trovano sui balconi delle loro abitazioni per sapere che cosa è. Ma questa non è soltanto la fonderia Pisano, io parlo dell'inguinamento industriale. Noi non abbiamo nulla contro la fonderia Pisano e contro i propri operai. Anzi, è giusto che la fonderia Pisano continui a lavorare, perché è un fonte di reddito per coloro i quali lavorano all'interno della fonderia Pisano, però purtroppo le attività industriali si devono adeguare a quelle che è anche la vivibilità del territorio. Anche perché adesso la fonderia Pisano, che tanti anni fa è stata qui impiantata, non potrebbe più trovare allocazione perché quest'area è stata destinata a zona residenziale e quindi automaticamente non deve essere delocalizzata. Oppure si deve adeguare. Secondo me è più facile delocalizzarla che fare l'adeguamento industriale perché costerebbe di più e rimanerebbe sempre una fabbrica vecchia e obsoleta. Per quanto riguarda invece l'inguinamento veicolare, basta fare uno sguardo e vedere il traffico che scorre lungo questa statale. Questa statale che poi arriva alla lungo Irno, io voglio far notare una cosa, una grossa pecca. La lungo Irno non è stata collegata e non può essere collegata alla tangenziale e quindi tutto il traffico che arriva dalla valle dell'Irno arriva nell'abitato di Fratti e quindi Fratti non ha risolto il suo problema di spostare il traffico che passa da questa strada per andare verso sud. E questo è maggiormente, si può notare, nei mesi estivi quando il traffico aumenta di più e specialmente quando si intasa la superstrada Salerno-Avellino. Per quanto riguarda invece l'altro aspetto, l'inguinamento dovuto all'impatto ambientale dovuto ai containers che furono sistemati tanti anni fa, proprio subito dopo il terremoto tra Fratte e Matierno, sono stati recintati dall'amministrazione comunale e sono chiusi e lì sono a testimonianza. Non sappiamo se dobbiamo fare gli scafi fra 100 anni, fra 200 anni, come se fossero diventate delle opere da vedere da un punto di vista paesaggistico. Noi vogliamo sappiamo che tutta quella roba lì che poi rilascia eternità da mianto, da come si dice, io non ho fatto nessun analisi, però tutti quanti sappiamo che quello lì ha un grosso impatto ambientale, non riusciamo a capire per quale motivo quei containers non vengono rimossi. Così si potrebbe fare delle belle zone di parcheggio, ridare di nuovo il territorio ai cittadini che in tutti questi anni hanno sofferto molto e quindi possiamo dare anche alle nostre future generazioni, che noi abbiamo distrutto, la nostra generazione non ha dato lavoro alle nostre generazioni, anzi siamo in una profonda crisi, almeno gli diamo un territorio da vivere.